Tu da che parte del paese vieni? Sono originario del Canada. Indovina dov'è. Lo so dov'è il Canada. Ci sono stato anch'io. Hai viaggiato per essere uno schiavo. Solomon Northup è un eccellente violinista. Sono nato libero. Vivevo con la mia famiglia a New York. Ma il bravo con la mamma. Fino al giorno in cui venne ingannato. A Solomon. Rapito. E penduto come schiavo. Allora ragazzo, come ti senti adesso? Mi chiamo Solomon Northup. Sono un uomo libero. E non avete alcun diritto di imprigionarmi. Tu non sei un uomo libero. Non sei altro che un fuggitivo della Georgia. Il prossimo servo, che non obbedirà al suo padrone, riceverà 50 frustate. È nelle scritture. Non è giusto come tratti i lavoratori. Loro sono miei. Lo dici con orgoglio. È un dato di fatto. Parla! Ognuno fa ciò che vuole di quello che gli appartiene. Oh! Vieni qui! Ho detto, vieni qui! Pochi giorni fa ero con la mia famiglia a casa mia. E ora tutto è perduto. Se vuoi sopravvivere, lavora e parla meno che puoi. Io non voglio sopravvivere. Io voglio vivere. Sospettavo che sapessi qualcosa! Ho eseguito gli ordini. Se qualcosa è sbagliato, sono sbagliati gli ordini. Sei stato portato qui per lavorare. Se lo rifai, ti prendi 100 frustate. So cosa vuol dire essere sottoposto alla frusta del padrone. No! Verrà il giorno in cui Dio li punirà, Solomon. Io ce la farò! Non mi lascerò sopraffare! Fino a quando non conquisterò la libertà! Io ero un uomo libero. Non sarò mai uno schiavo. Sì, però tu la farò! Io ce la farò! zugresale c'è l'ho! Grazie a tutti.